C'è Marco che lo ha placato giusto in tempo L'altro giorno mentre giocavo a Portal mi ha fatto tipo Sei finto Mario, sei finto Guarda chi c'è Guarda chi c'è Eccolo Eccolo qua, ciao Marco Ciao Marco Come stai? Minchia è un onore averti qua, è quasi impossibile Ho finito Dario Non ci posso credere Vengo da te con una bella chiavetta Ragazzi Marco Merrino ha finito Impatto G E siamo tutti molto contenti di questo Finalmente Finalmente Ma se questa è la presenza di Marco qui è strana E il fatto che abbia finito il video è strana E' ancora più strana questa combo Devo andare a lavarmi è bellissimo Sì sì sì, poi la frase è proprio giusta Meravigliosa Ciao Victor Ciao ragazzi Ciao Il meme più assurdo che esista forse nella... Eh quindi popolare Popolare comunque